Lui paga il conto a maggior dose, grazie a tante del favore, in qualche modo prenderò. Lui dice, no, preoccuparsi, no, abbiamo già la soluzione. Sto qui seduto in questa macchina e poi nel lusso di un grande hotel, un letto singolo. La prego piano, la faccia piano, è la prima volta, anzi no, sarebbe la seconda, ma è successa in parrocchia, un bambino, tanto bene, ho rimosso. Poi anche la trita si è ristabilita, sa, si chi faccia piano la prego. Oimè, oimè! E il mio vento di anni ci va, il mio posto di me, che canto! C'è a farcivolo, parto, rotto un culo a rovetà. Il finale in genere è qua. Non lo so perché. È perlomeno una canzone più estiva, no? Ma io sono d'accordo sul fatto che uno può fare canzoni proprio di quelle tristi, no? Che c'è da mettersi le mani sui foglioni che sono unbernali, unbernali che si usano un po' più di fresco, no? Se fai tutta la musica estiva, puoi fare canzoni. Perché questo è proprio un top ten della disperazione mastering. E qua in cielo, ha tutto scritto. Dedicata tra l'altro Dedico il brano al bambino Zaglio Zaglio Gli genitoriон c'hanno i soldi o sono fuori di testa? Fuori di testa Tutti e due Mamata l'atmanoandsaazzo Vogliocare dell'atmanoizzato Mamata l'atmanoazzzo La mia mamma fa mi porterà a vedere Gigi Badla E non so che ballava perché un dente di doveva E va ancora Gigi Badla qua caldo la mia mamma fa mi porterà E la mia mamma fa mi porterà a vedere Gigi Badla e la gente applaudiva e nessuno lo vedeva e la gente applaudiva e nessuno lo vedeva e nessuno lo vedeva e la gente Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info